Siamo contenti che i piccoli possano rientrare, anche perché le famiglie si trovavano in grossa difficoltà, però sicuramente non è sufficiente. Chi è stato sacrificato di più sicuramente sono stati i ragazzi delle superiori e dell'università, che sono a casa praticamente da un anno, e quindi oggi la giornata di protesta la dedichiamo in particolare a loro. No, vorremmo poter dare a loro la voce e quindi li stiamo aspettando qui in piazza, perché possano raccontarci come si sentono e quali sono i loro reali bisogni. Le notizie a livello nazionale sono molto buone, perché i tribunali amministrativi e perfino il Consiglio di Stato hanno dato sempre ragione fino a questo momento ai genitori, agli insegnanti e agli studenti che chiedono di rientrare in presenza. Le motivazioni per cui il governo e i presidenti di regione hanno stabilito di adottare la didattica a distanza to cure non sono sufficienti e non sono supportati da evidenze scientifiche che vengono da adesso in poi richieste in modo puntuale.